Schiacciata? No, 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 sentite. Ora ti vedi? Che cavolo non è mai arrivata? Da zero ho detto di fare così. Non se ne vede, non si vede la farina, ok? Che palle, uomo, uomo. Che palle, uomo. Che palle, uomo. No, aspetta, aspetta, aspetta. Per te le minuta. No, no, è vero. Guarda, adesso lei pensava. Perché è ok, perché è... Ah... Ah...